I Comites sono organismi di rappresentanza degli italiani all'estero. Un raccordo tra i cittadini e la rete diplomatico consolare. Un ponte tra le esigenze dei connazionali e chi li rappresenta sul territorio. I Comites soffrono servizi, favoriscono l'integrazione, promuovono i diritti e gli interessi dei nostri connazionali all'estero. Sono un punto di riferimento sicuro per chiunque decida di intraprendere un nuovo percorso di vita, la base di partenza per i nuovi arrivati e la presenza costante per chi risiede già da anni all'estero. I Comites forniscono sostegno alla comunità, organizzano eventi e iniziative per promuovere l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole, realizzano progetti legati alla vita sociale e culturale con particolare attenzione alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale e ai giovani. Inoltre, favoriscono iniziative per valorizzare il patrimonio socioculturale italiano in ogni campo e in piena collaborazione con le istituzioni locali. I Comites rappresentano la voce della comunità italiana e sono uno strumento indispensabile per coinvolgere i nostri connazionali nel sostegno degli interessi delle nostre comunità all'estero. Comites, il tuo impegno per gli italiani all'estero. Comites, il tuo impegno per l'estero.